Polemiche intorno al Festival di Sanremo 2020 mancano ancora alcune settimane alla messa in onda della settantesima edizione del Festival di Sanremo ma già intorno alla Kermes girano delle polemiche abbastanza forti. Oltre alle dichiarazioni di considerate sessiste, c'è stato il forfeit di un cantante in gara e da parte di Monica Bellucci. Ma nelle ultime ore sono giunte degli avvertimenti ben precisi nei confronti del direttore artistico e presentatore della manifestazione che si terrà nella città di Navigure nella prima settimana di febbraio 2020. Pietro Valti dell'eredità si fa vivo a distanza di anni si è fatto vivo un certo Pietro Valti. Sicuramente alla stragrande maggioranza dei lettori questo nome non dice niente. E se vi ricordiamo per me è la cipolla frase detta all'eredità tempo fa. Ebbene sì, è un ex concorrente del game show del preserale di Rai Uno allora guidato da... Il cremasco, impossibilitato ad andare avanti nel gioco iniziò a sparare a casaccio una serie di risposte. A quel punto il padrone di casa perse la pazienza e invitò l'uomo a lasciare lo studio Rai. Dopotempo Pedo disse che i vari quiz dell'eredità erano truccati e, una volta che il suo destino era segnato, decise di uscire con stile. Pietro Valti avverte a distanza di quasi dieci anni Pietro Valti è tornato alla carica contro. Attraverso un video postato sul suo account Instagram, l'ex concorrente dell'eredità si è scagliato contro il conduttore dopo che quest'ultimo è stato travolto dalle polemiche che lo hanno visto protagonista nella conferenza stampa di Sanremo. Dopo aver tirato le orecchie al marito di Giovanna Civitillo per le accuse di sessismo, l'uomo gli ha dato un avvertimento. Ovvero che molto presto svelerà cosa gli ha fatto quando era concorrente nel game show di Rai 1. E' solo una trovata prima del festival oppure Sebastiani dovrà iniziare a preoccuparsi seriamente. A questo punto non ci rimane che attendere le prossime settimane. Ecco lo sfogo di Valti Swing.